Grazie. Adesso diamo la parola ad Eugenio Mercuri che ci parlerà della Taluren. Buongiorno. Thank you Pat. È un piacere per me oggi presentare i dati della Taluren o PTC 124 come siamo stati abituati a chiamarlo per un sacco di tempo. È un piacere perché questo studio per noi clinici ma per noi tutti come comunità ha rappresentato davvero il punto di svolta prima di questo studio non eravamo abituati agli studi multicentrici, non eravamo abituati agli studi internazionali non eravamo abituati a pensare a standard di cure, a misure di valutazione in una maniera così sistematica. Questo studio che è stato il primo a mostrare la via anche se poi come vedremo ci sono stati dei piccoli errori di percorso ed è interessante vedere come tutti gli studi che sono venuti dopo che in questo momento stiamo conducendo hanno utilizzato una simile struttura cercando però di non ripetere gli errori che erano stati fatti in questo primo studio però credo che sia doveroso riconoscere quanto questo studio abbia cambiato la nostra concezione di fare uno studio multicentrico e ci abbia dimostrato che sia possibile. I risultati che mostrerò oggi sono i risultati dello studio di safety e di efficacia che è stato condotto con la Taluren. Questo è uno studio internazionale ma partiamo da vedere da come funziona la Taluren. Allora questo studio è uno studio specifico. Avete sentito oggi con l'exon skipping che non tutti i farmaci sono adatti a tutti i bambini, a tutti i ragazzi e a tutti gli individui che hanno la malattia di Duchenne ma che molto spesso questi studi hanno un target particolare. In questo caso il target è diverso da quello dell'exon skipping perché sono i ragazzi che hanno appunto la distrofia di Duchenne e che avevano delle mutazioni che si chiamano non senso. Questo è un piccolo cartone che la PTC ha preparato per dire come quando c'è una mutazione che si chiamano di stop e che sono premature, che succedono un pochino prima quindi, questo porta ad una formazione incompleta della proteina. Quindi se, come nel caso di questi bambini che hanno questa mutazione, non si fa nulla, c'è l'impossibilità per questi ragazzi di formare una proteina completa. Cosa fa la Taluren? La Taluren va a collocarsi praticamente dove c'è la mutazione non senso e in qualche modo permette un po' di passaggio e quindi alla fine si avrà appunto una proteina che viene espressa nel muscolo. Quindi in qualche modo il meccanismo è diverso ma ricordo un pochino quello che succede anche nell'exon skipping. E allora questo studio, dopo i primi studi che sono stati fatti per valutare la safety, che non facesse male e per vedere l'efficacia sulle distrofie, è stato fatto qualche anno fa, ormai un po' di tempo fa, a questo studio, quelli che si chiamano Pivotal, che sono gli studi che proprio servono per dimostrare se sono davvero efficaci. E lo studio era stato composto utilizzando tre braccia, uno in cui c'era il placebo che è indispensabile e due che invece utilizzavano il farmaco ma con due dosi diverse, una dose intera o una mezza dose, chiamiamola così, una dose alta o una dose bassa. I criteri di erigibilità erano quelli appunto di avere una distrofia di Duchenne, in realtà c'era anche qualche soggetto Baker che era stato permesso ma sono pochi i bambini Baker che hanno questo tipo di mutazioni, dovevano avere più di cinque anni e come criterio di inclusione, che poi vediamo anche negli studi che sono venuti, dovevano essere almeno in grado di percorrere 75 metri su questo test dei sei minuti di cui avete parlato tante volte e dovevano assumere dei cortisonici in maniera stabile, quindi senza troppi sbalzi che avrebbero potuto inficiare lo studio. Queste popolazioni erano state poi randomizzate, nel senso che si era stata presa attenzione che all'interno di ciascuno di questi tre gruppi non ci fossero discrepanze di età, quindi che non ci fossero troppi bambini piccoli in uno o troppo nell'altro, quindi sono stati stratificati come utilizziamo in questi trial per essere sicuri che ci fosse la stessa distribuzione di età, la stessa distribuzione di utilizzo di cortisonici e soprattutto gli stessi livelli funzionali, per essere sicuri che sappiamo che l'età e i livelli funzionali non vanno sempre necessariamente assieme, quindi chi entrava nello studio veniva fatto un six minute per vedere qual era il livello funzionale e quindi era un altro livello di stratificazione. E il punto primario per valutare se lo studio aveva efficace o meno è questo studio dei sei minuti, io vedo qui molte famiglie che conosco sono abituate al fatto che facciamo girare questi bambini per sei minuti attorno ad un percorso fisso di 25 metri che ci dà un'idea di quanto i bambini si stancano e di quanto riescono a fare. Allora partiamo subito dalle cose che non ci piacciono, gli effetti collaterali, gli adverse events. Allora gli adverse events bisogna dire che noi siamo obbligati a segnalare qualsiasi effetto collaterale indipendentemente se pensiamo che questa cosa sia correlata o meno. Questo cosa significa? Che se seguiamo tutti questi ragazzi per un anno è facile che in un anno questi ragazzi abbiano dei raffreddori, che possano avere delle cadute, che possa succedere qualcosa o che possano avere anche degli effetti che potrebbero essere associati al farmaco o al placebo che stanno assumendo. Gli eventi vengono suddivisi sulla base della gravità e quindi vengono suddivisi da un grado da 1 a 4 secondo che siano leggeri o via via sempre un pochino più gravi fino addirittura a life-threatening che significa che c'è una minaccia di morte che sembra una cosa grossissima. In realtà fortunatamente nessuno è entrato in questa categoria. E poi li suddividiamo anche sul fatto che siano sicuramente non correlati al farmaco, a quello che stanno assumendo, oppure che possano essere possibilmente associati o se questa possibilità diventa sempre più alta. E allora da questi dati già possiamo vedere un pochino di cose, possiamo vedere che nessuno aveva avuto dei grado 4, ma quello che è interessante è vedere che anche quando andiamo nei gradi 2 e nei gradi 3 la percentuale di ragazzi che avevano avuto questo tipo di problemi era simile anche nel gruppo dei placebo. Se guardiamo il grado 3 vedete 16, 14 e 17. Questo significa che non era il principio attivo del farmaco probabilmente perché altrimenti non si sarebbe trovato anche nel placebo. È importante vedere che quando parliamo di eventi gravi la percentuale è relativamente piccola e ci dovrebbe essere un'altra diapositiva che ci dice che cosa sono questi eventi. Dicevo appunto che noi siamo costretti a segnalare davvero tutto per cui molto spesso questi bambini che dovevano prendere questa soluzione orale perché il farmaco, questa era una delle cose buone, il farmaco veniva dato in delle bustine che si scioglievano nell'acqua o nel latte, ogni tanto avevano della nausea, ogni tanto avevano dei mal di testa, la diarrea, però vi ripeto che lo studio durava un anno. Tutti voi che siete genitori di bambini sapete che in un anno la possibilità di nausea e diarrea in un bambino è una possibilità che comunque è abbastanza alta indipendentemente dal fatto di avere un farmaco ed è interessante vedere quali sono le percentuali in associazione anche con il placebo. Alcune di queste cose si valutavano abbastanza frequentemente anche nei placebo, non c'era quello che nei trial ci interessa che una differenza significativa tra chi faceva il placebo o tra chi faceva le due dosi di farmaco. Quindi è interessante che tanti effetti collaterali, tra virgolette, tra tanti eventi affersi, però in realtà non legati al farmaco, in realtà non più grandi di quello che forse vedremmo in una popolazione di ragazzi che non sono trattati. Allora, dicevo prima che il six minute walk, questo cammino, la distanza che un ragazzo è in grado di percorrere in un tempo di sei minuti su un percorso fisso, è stato usato come la misura principale per valutare l'efficacia. Perché la distanza dei sei minuti? Qui devo fare un atto di orgoglio, al contrario dell'orgoglio, devo fare un'ammissione di colpa che quando ci è stato proposto questo test, io come tanti altri clinici ci abbiamo creduto poco a questo test. Invece poi, usandolo nella pratica quotidiana, ci rendiamo conto quanto davvero rispetti la capacità di questi ragazzi di stancarsi o di fare le cose. Adesso che lo facciamo in maniera regolare nella nostra routine clinica ci rendiamo conto di quanto in realtà serva per seguire delle possibili modifiche. Alcune volte troviamo dei valori diversi e i genitori ci dicono sì, in effetti ha avuto l'influenza. Quindi riflette tanti piccoli aspetti anche della vita quotidiana. E perché è stato scelto il test dei sei minuti? Perché era un test che piaceva poi agli enti che poi vanno a regolamentare l'accettazione dei farmaci ma soprattutto perché ci dava una misura di quella che noi chiamiamo l'endurance quindi dell'affaticabilità. Uno può partire molto bene ma stancarsi dopo due giri o al contrario uno può mantenere lo stesso ritmo per tutto il tempo. Quindi alla fine la distanza che riescono a percorrere ci danno una misura della loro capacità che è anche influenzata dal fatto se si sono sviluppate delle retrazioni, si sono diventati più deboli e così via. Il motivo per cui è stato usato era che era già stato usato tante volte in tanti altri studi che coinvolgevano anche i bambini ed era una misura ben accettata, ben riconosciuta, che aveva una buona base di solidità, di affidabilità nell'essere ripetuto e così via. E prima di fare questo studio purtroppo non erano disponibili molti dati di quelli che chiamiamo di storia naturale per sapere cosa succedeva in questa popolazione. Erano stati fatti degli studi a breve termine, soprattutto dal gruppo di Craig McDonald che dimostravano l'affidabilità della misura anche se, vi dicevo, purtroppo mancavano questi studi a lungo termine che se ci fossero stati forse ci avrebbero aiutati. Allora, l'ipotesi qual era? L'ipotesi era che il gruppo che assumeva il farmaco piuttosto che il placebo doveva avere una performance superiore di almeno 30 metri rispetto al gruppo che prendeva il placebo. E quindi l'ipotesi era che dovevamo notare una differenza tra chi prendeva il placebo e almeno uno dei due gruppi che prendeva il farmaco. Allora, sulla base di queste ipotesi si è calcolato il numero di bambini che dovevano essere, di ragazzi che dovevano essere arruolati che sono stati 165 e questi, per le persone che sono interessati, sono poi i livelli di significatività che erano stati pensati per dimostrare appunto l'efficacia del farmaco. E allora, finalmente arriviamo a vedere questi risultati che è quello che stiamo aspettando. Questi risultati cosa ci hanno dimostrato? Ci hanno dimostrato che c'era una differenza tra chi prendeva il farmaco e chi non lo prendeva. La linea azzurra ci mostra i bambini che facevano il farmaco a dose piena, quindi 20, 20 e 40 milligrammi. La linea gialla ci mostra chi prendeva la dose bassa e la linea bianca ci mostra chi prendeva il placebo. La prima cosa che salta agli occhi è che il placebo, la linea bianca e la linea azzurra sono praticamente identiche, quindi chi faceva la dose intera non si comportava in maniera molto diversa da chi prendeva il placebo. Spiego un pochino meglio questo farmaco. Queste sono le modifiche che abbiamo osservato sul six minute walk tra la valutazione iniziale e la valutazione alla fine dello studio. Quindi zero cosa significa? che se il punteggio fosse zero questi ragazzi non avrebbero avuto nessuna modifica tra l'inizio e la fine. Meno 10, meno 20 significa che facevano 10 metri in meno rispetto alla parte iniziale, meno 20 e così via. I valori positivi sono rifletti in un possibile invece incremento dei metri fatti nei sei metri. Quindi come vi dicevo c'è una differenza tra chi faceva la bassa dose, la dose bassa e chi prendeva invece il farmaco intero che si comportava esattamente come il placebo. Se guardiamo ancora meglio questi risultati un altro modo di vedere è quello di vedere come questi bambini cambiano e quindi aspettarci qual è il tempo per mostrare un peggioramento di 10 metri e anche qui vediamo che la linea gialla che sono vi ripeto sempre quello dei bambini che prendevano la dose bassa era nettamente superiore sia al placebo ma anche ai bambini che prendevano la dose intera. Questo risultato ci ha un pochino sorpreso non erano questi i risultati che ci aspettavano e poi sono stati spiegati facendo ulteriori studi e si nota che quella che abbiamo imparato un pochino meglio che esistono dei farmaci che ci danno non una risposta esponenziale in cui se noi aumentiamo la dose vediamo un miglioramento della funzione ma invece di avere una linea dritta possiamo avere una linea campana questa linea campana abbiamo imparato a conoscerla bene cosa significa che fino a un certo punto saliamo sul picco della campana diciamo cioè noi aumentiamo e migliora la performance ad un certo punto però aumentare non significa avere un ulteriore miglioramento nel rimanere stabili ma al contrario se noi aumentiamo la dose è facile che vediamo un decremento delle risposte che ci aspettiamo se qui vediamo io non so se questo riesco ad utilizzarlo senza fare danni se c'è un is there a pointer infatti ho fatto danni lo sapevo va bene è quello ah pensavo che chiudesse quindi vedete che fino a un certo punto con la dose si ha un miglioramento delle performance in questo caso non sono le performance ma l'espressione di distrofina e man mano che aumenta la dose invece di continuare ad aumentare o rimanere stabile l'intensità decresce questo ci ha spiegato perché e questo era un risultato non aspettato perché alla fine dello studio cosa è successo che come da contratto i ragazzi dovevano rimanere per un altro periodo a prendere il farmaco invece ad un certo punto abbiamo avuto questa notizia improvvisa io ricordo ancora che era il 3 marzo e siamo rimasti noi famiglie medici tutti disorientati da questa cosa e lo studio si è chiuso perché tutti i ragazzi che stavano continuando nell'estensione con la dose intera chiaramente c'era questa evidenza che la dose intera non funzionava quindi questo ci ha scombussorato e per un po' di tempo c'è stata questa confusione sul fatto se i risultati fossero stati dei risultati se il farmaco funzionava o meno nel tempo è stata fatta questa analisi che ha permesso di suddividere le varie dosi ed è stato evidente che praticamente una risposta c'è ma che questa risposta è legata soltanto alla dose bassa quello che è stato fatto successivamente ed sono i risultati che credo siano abbastanza nuovi oggi è quello di vedere se l'efficacia quindi le performance di questi ragazzi riflettevano non soltanto la dose che veniva preso ma noi sappiamo tutti che quando assumiamo dei farmaci non abbiamo tutti la stessa capacità di assorbirli o di metabolizzarli per cui mentre facevamo lo studio quello che succedeva è che quando davamo il farmaco successivamente andavamo a calcolare anche dopo due ore la concentrazione plasmatica quindi noi avevamo una misura del dosaggio del farmaco dopo due ore e quello che è stato fatto che chi prendeva la dose alta quindi questa high dose è stata suddivisa il gruppo è stato suddiviso a secondo che alle due ore la loro concentrazione fosse al di sotto di 19.3 o al di sotto di 19.3 queste sono delle analisi che sono state fatte successivamente alla fine dello studio non facevano parte dell'analisi dell'ipotesi iniziale sono delle cose che abbiamo imparato dopo e quando andiamo a suddividere poi ci sono dei grafici che mostrano questo ancora un pochino in maniera più semplice quando siamo andati a suddividere o a vedere che cosa succedeva due ore dopo nel gruppo che prendeva la dose alta è stato visto che appunto non tutti rispondevano allo stesso modo e che c'era una percentuale di pazienti che aveva una concentrazione superiore a 19.3 e una percentuale che ce l'aveva inferiore e questo lo mostra meglio e questo secondo me è un grafico che ci ha insegnato un sacco di cose perché vediamo che sappiamo che la dose bassa si comportava molto bene c'era una piccola caduta nella performance del six minute walk e vediamo la grossa differenza che c'è chi aveva una concentrazione bassa che quindi si avvicinava di più a chi prendeva la dose bassa e chi invece aveva un migliore assorbimento aveva una maggiore concentrazione che si avvicinava di più al placebo addirittura andava peggio quindi questo ci ha insegnato un'altra cosa e ci ha rinforzato l'idea di questa idea della campana che una bassa dose o una minore concentrazione anche in chi prendeva la dose alta avevano sicuramente un'efficacia superiore rispetto a chi prendeva il placebo o a chi aveva una maggiore concentrazione quindi un ulteriore elemento molto importante questa era la misura primaria poi io ritorno sempre ai nostri ambulatori quando venite sappiamo che non fate soltanto il six minute walk ma facciamo anche la velocità con cui i ragazzi riescono a fare 10 metri con cui riescono ad alzarsi da terra quindi ci sono stati altri test che erano utilizzati e che sono stati considerati quelli che sono i test a tempo quanto è veloce il ragazzo a fare 10 metri quanto è veloce il ragazzo ad alzarsi da terra perché questi test questi test sono utilizzati da sempre sono test che sono molto importanti anche per iniziare ad identificare le varie tappe di quando si perdono alcune abilità che sono importanti nella vita reale e se andiamo a vedere la differenza di questi test tra la linea gialla e la linea azzurra in cui la linea gialla è sempre la dose bassa e la linea azzurra è la dose alta vedete che anche in tutti questi test c'era una differenza nel modo di fare le scale di salire o di scendere le scale nel modo di correre per 10 metri o nel modo di alzarsi questo questo era un pochino meno importante da terra perché questa è la prima abilità che è un pochino più difficile ci sono tanti altri fattori come le retrazioni che la influenzano e ancora una volta se andiamo a dividere la dose maggiore in base alla concentrazione nel sangue dopo le due ore vediamo come abbiamo un gruppo con una bassa concentrazione che somiglia di più alla bassa dose mentre il gruppo a più alta concentrazione somiglia di più al placebo quindi importante questo discorso della concentrazione di cui col senno del poi si sarebbe dovuto tenere conto ci sono stati anche altre cose che sono state misurate come vi dicevo questo studio è stato importantissimo perché per la prima volta ha esplorato quali erano anche le misure che poi ci potevano servire di più o di meno allora per un motivo o per l'altro alcune misure si sono dimostrate meno sensibili a valutare queste modifiche questo non significa che queste misure non sono importanti ma che nel modo in cui erano state utilizzate in questo studio che era il modo più canonico riflettevano di meno la possibilità di valutare delle modifiche in quel periodo di tempo quanto meno e questo è stato quello che è stato fatto il numero di cadute anche qua suggeriva che c'era una tendenza c'erano meno cadute nei pazienti trattati soprattutto con la bassa dose rispetto ai placebo mentre c'erano degli altri punti secondari che alcuni erano stati utilizzati per la prima volta come lo step activity o la miometria o noi chiedevamo ai ragazzi di fare delle prove cognitive dovevano ripetere dei numeri e poi dei numeri al contrario questi test non sembravano abbastanza sensibili per lo meno utilizzati in questa maniera per valutare delle differenze un discorso a parte merita il discorso dell'espressione della distrofia che era qualcosa che noi su cui contavamo tantissimo ci sarebbe piaciuto vedere la differenza di distrofina sull'espressione però come dicevo questa era la prima volta che questo veniva fatto con un impiego centralizzato delle biopsie le biopsie venivano fatte venivano spedite e questa centralizzazione delle biopsie ha comportato che in qualche modo le biopsie non fossero interpretabili che non tutte le biopsie fossero interpretabili quindi questo è stato qualche cosa che abbiamo imparato da questo studio che purtroppo questo modo di conservare le biopsie e di dire le mandiamo in un solo posto perché lì le leggeranno allo stesso modo sulla carta sembrava il modo migliore ma l'esperienza ci ha insegnato che dobbiamo farlo in maniera un pochino diversa allora quali sono le conclusioni le conclusioni che questo studio è stato importante è stato importantissimo intanto per tutto quello che ci ha insegnato ma ci ha insegnato anche e soprattutto che la taluren è intanto un farmaco molto ben tollerato quindi il discorso di safety è stato abbondantemente superato a pieni voti è che non tutte le dosi funzionano allo stesso modo ma che la dose 10-10-20 sembrava funzionare molto meglio e in questo studio era associato con una differenza di circa 30 metri rispetto al gruppo col placebo e che c'era un maggiore tempo prima di vedere un peggioramento del 10% e c'era anche un trend positivo in tutti quelli che erano i test a tempo i test temporizzati al contrario la dose piena come abbiamo capito subito dopo la fine dello studio non sembrava avere gli stessi effetti e si comportava anzi addirittura in maniera molto simile al placebo e quindi un'altra cosa che abbiamo imperato intanto è che la taluren serve ma che bisogna stare attenti alla correlazione con la concentrazione plasmatica per cui c'è una correlazione inversa in cui appunto non si vede un miglioramento continuo una stabilizzazione ma c'è una perdita di performance a secondo della concentrazione allora a questo punto visto che i risultati sembrano così promettenti le domande sono quelle qual è il next step siamo rimasti tutti molto delusi dal fatto che lo studio si fosse interrotto in maniera così brusca e poi dal sentire che io finora ho presentato le diapositive adesso parlo un pochino più a livello personale che non come persona a cui è stato chiesto di presentare i dati della PTC siamo rimasti tutti delusi dal modo in cui lo studio è stato interrotto dal sentire che in America lo studio era andato avanti poi con l'estensione i permessi erano arrivati prima che in Europa allora oggi sono contento di dire che anche in Europa finalmente abbiamo la possibilità di entrare nello studio di estensione quindi i ragazzi che prendevano il farmaco verranno richiamati credo che questa cosa succederà probabilmente già fra qualche mese noi medici che eravamo coinvolti nello studio abbiamo già ricevuto il materiale su come iniziare le procedure e tutto il resto sarà uno studio di estensione che a differenza di quello americano devo dire l'onore alla PTC che sta a sentire noi medici abbiamo insistito molto sul fatto che ci fossero anche delle misure di efficacia cioè non volevamo soltanto essere sicuri che questo studio di proseguimento fosse uno studio per assicurarsi ulteriormente che il PTC va da bene anche in un periodo di esposizione maggiore ma rivaluteremo il six minute walk rivaluteremo altre cose per cui avremo anche delle misure di efficacia allora questi protocolli sono pronti per partire probabilmente si partirà proprio fra qualche mese si parla del secondo quartile dell'anno per cui è molto semplice che partiremo proprio fra uno o due mesi però questi studi che sono questi risultati che sono stati presentati sono dei risultati molto promettenti sono risultati che ci fanno pensare che per questo 13% di bambini che non entreranno nell'exon skipping o in altri studi così specializzati potranno beneficiare allora sappiamo che ci sono tanti altri ragazzi che hanno le stesse mutazioni e che non sono entrati in questo studio e si sta lavorando con l'EMEA con l'FDA con gli enti che regolamentano con noi clinici per vedere qual è il modo migliore per far sì che questo studio che questo farmaco sia disponibile per altri studi o in altro modo per cui oggi sono ben contento perché era un pochino di tempo che ci aspettavamo dei risultati oggi sono ben contento di essere stato in grado di presentare ma soprattutto che siano così disponibili perché credo che le prospettive future siano abbastanza rose grazie un attimo soltanto c'era la diapositiva finale di ringraziamento questo come dicevo era uno studio multicentrico e qui sono elencati tutti gli esaminatori tutti i principal investigators nei diversi centri con un gruppo che bisogna ringraziare perché è da lì che abbiamo capito anche per gli altri studi come si fa il training per gli studi multicentrici e i vari sponsor grazie adesso davvero grazie a tutti